Alessandro Fusion, il primo dei due atleti del Neurone Porcia in questa finale che prende il comando. Ed è seguito da Alessio Mannai con il numero 60, l'atleta di Cagliari. Siamo a meno uno, Fusion sempre in testa. Abbiamo l'attacco di Francesco Bertolo, Fusion sempre in testa, Mannai Bertolo. E anche per loro, signori, un grande applauso.